ciao amici c'è un frutto che combatte la cellulite la pelle a buccia d'arancia la ritenzione idrica sapete qual è l'anti arancia la povera arancia non c'entra nulla sto parlando dell'ananas vi assicuro che dopo aver visto questo video guarderete l'ananas con occhi diversi se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video l'ananas non solo è buono ma anche ricco di nutrienti dissetante e rinfrescante contiene poche calorie è saziante drena i liquidi in eccesso contrasta gonfiore e cellulite tutti questi benefici derivano dalla bromelina un principio attivo anti gonfiore ma per averli bisogna mangiare ananas fresco appena tagliato hai sentito squaletto ecco altri benefici l'ananas aiuta la digestione ha solo 42 calorie per 100 grammi di polpa è ricco di acqua e zuccheri naturali che non fanno ingrassare contiene vitamina c potassio e magnesio ha una buona quantità di fibre vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona partecipa agli eventi vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta italia prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere in cosmesi l'ananas si usa per creme e prodotti di bellezza con effetti anti age e anticellulite e noi a casa possiamo farlo anche noi oltre a mangiare ananas ogni giorno possiamo fare un impacco di bellezza si fa così tagliare a cubetti due tazze di ananas tritare l'ananas in un frullatore potente finché diventa una purea deve essere bello cremoso perché si usa sotto la doccia una volta pronto applicare la purea sui punti critici con la cellulite e lasciare in posa 5 minuti massaggiare bene risciacquare e poi farsi la doccia normalmente oltre ad assorbire i principi attivi dell'ananas come gli acidi della frutta questo trattamento è anche esfoliante wow che lusso è davvero piacevole provatelo e nei commenti fatemi sapere come è andata vi piacerebbe vedere altri video con cosmetici fai da te a base di ananas votate nel sondaggio che trovate nella scheda cliccabile dalla i qui in alto per vedere tanti altri video iscrivetevi al canale è facile con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto abbi cura della tua bellezza con la natura vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri e the book i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao